Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme un paio di scarpe, non vedremo più una maglia le Nike Air Jordan 4, le Black Cat Premetto che quando ho ricevuto il pacco la scatola mi aveva fatto un po' preoccupare perché durante la spedizione diciamo sia un po' ammaccata però devo dire che al suo interno si celava un vero e proprio tesoro queste bellissime scarpe, perfette in ogni dettaglio ora vedremo insieme tutti i particolari, ci vediamo alla fine icone indiscussa nella storia del basket e della cultura pop nei suoi 32 anni di vita Air Jordan 4 ha sfoggiato una serie di colorway diventate leggendarie una delle più notevoli, la Black Cat, nata da uno dei soprannomi di Michael Jordan è tornata, questa versione in stile retro rispecchia quella del 2006 e sceglie le tonalità del nero per sottolineare il suo stile la silhouette monocromatica in pelle Nabu e le rifiniture opache color grafite si aggiungono ad altri dettagli storici dell'originale come le sagome rigide che trattengono gli occhielli e la rete traspirante sulla tomaia con un jumpman color grafite su nero sulla linguetta e un logo nero lucido sul tallone, questa elegante versione è nata per volare oltre il canestro cosa ne pensate? mio figlio è rimasto entusiasta devo dire che su queste cose ne sappi di me, conosce molto più dettagli di quelli che sono io e queste scarpe le hanno veramente entusiasmato peraltro il prezzo lo vedete qui sopra bassissimo per una scarpa fatta così bene che arriva peraltro con un tempo di spedizione molto ridotto questa è arrivata in 22 giorni e come detto la scatola era un po' così ma all'interno si celava il vero tesoro vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare le scarpe e un link per ottenere un coupon da 3 dollari per oggi è tutto, prima di lasciarvi spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale ci vediamo alla prossima, ciao!